Ora per l'ultima canzone parleremo un po' più di attualità, quindi metterò un cappello più serio. Questo è il valore del compagno Kim Jong-un che ha siglato un accordo di pace nella Corea, ma questo non sarebbe stato possibile senza il grande contributo del compagno Antonio Maffi! Va bene, questa canzone è l'ultima canzone che abbiamo scritto, sono ormai passati due anni, questa è... Vacanze in Nord Corea! Che bellerà di Vacanze in Nord Corea! Che bellerà di Vacanze in Nord Corea! Ma non mi stanno acconti con l'idea! Che c'è stata mia piena montagna! Che bellerà di Vacanze in Nord Corea! Quando fue la famiglia, della Folga! Poi non ti portano il progettivo Innamorato mi è sempre molto più Poi lo resto non sarà più che non ti spiega E non ti spiega Non ti spiega, non ti spiega, non ti spiega 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.